Una mostra per far incontrare l'arte pittorica e scultoria con il cinema. È la sezione espositiva del Lucca Film Festival che ha inaugurato negli spazi della Limonaia di Palazzo Fanner Good Morning Taviani, la personale di Marcello Scarselli dedicata ai fratelli Taviani, tra gli autori più significativi del cinema contemporaneo. Trenta i dipinti esposti tra opere figurative e astratte, tele in cui l'artista pisano cerca di ricreare la magia e la poesia delle pellicole più celebri dei Taviani restituendo all'osservatore il pathos e le emozioni di un cinema che interroga il paesaggio e gli uomini. Oggi Marcello Scarselli interpreta il cinema di Taviani attraverso la pittura, che è la linea di questa sezione del Lucca Film Festival, lo fa attraverso una serie di squarci più di impressione che di riproduzione mimetica, di figurazione e si avvicina a quella che è la poetica di Taviani e al loro rapporto con la letteratura, da Trostoia, all'amato Pirandello, fino ai ricordi soprattutto di tre film, Chaos, Good Money in Babilonia e Padre e Padrone. Scarselli ritrae elementi quali la jarra, la luna, la chiesa, i campi di grano che diventano stazione di un viaggio nella memoria e nel sogno delle opere cinematografiche di Paolo e Vittorio Taviani. A me mi interessava la poesia, mi interessava il concetto di quello che il cinema, che loro hanno prodotto. Una volta che sono riuscito ad entrare dentro il ragionamento di questi film, sono riuscito a fare una fusione tra il cinema, che è dinamico, e la pittura, che è statica. L'esposizione sarà visitabile fino al 16 ottobre.